Gli Stati Uniti hanno attaccato durante la notte l'aeroporto di Baghdad uccidendo il generale iraniano Qassem Soleimani, una delle figure chiave della strategia di Tehran in Medio Oriente. L'ordine di uccidere Soleimani è partito dallo stesso presidente Trump, afferma il Pentagono. Una dura vendetta attende i criminali, ha dichiarato la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Alta tensione nel Movimento 5 Stelle dopo che Gianluigi Paragone è stato espulso per aver votato contro la legge di bilancio. Paragone ha già annunciato ricorso e non esclude di appellarsi anche alla magistratura ordinaria. Alessandro Di Battista lo difende, è infinitamente più grillino di tanti altri che si professano tali, ma Di Maio dice no all'anarchia. Matteo Salvini depositerà oggi in Senato alla Giunta per le autorizzazioni a procedere una memoria difensiva sul caso Gregoretti. Secondo le prime anticipazioni, il leader della Lega avrebbe chiamato in causa gli ex alleati. Tutto il governo Conte era d'accordo con me. Il voto della Giunta è previsto per il 20 gennaio. Il Parlamento turco ha votato a favore dell'invio di truppe in Libia a sostegno del governo di Tripoli guidato da Sarraj. La preoccupazione dell'Unione Europea che ribadisce non esiste una soluzione militare per il conflitto libico. Il monito dell'ONU contro un'internazionalizzazione della guerra. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Della 7, due giorni dopo l'assalto all'ambasciata americana in Iraq, gli Stati Uniti hanno attaccato durante la notte l'aeroporto di Baghdad, uccidendo tra gli altri anche il generale iraniano Soleimani. Una delle figure chiave, l'abbiamo sentito anche dai titoli della strategia iraniana. In Medio Oriente sono morte anche altre 7 persone. Il Pentagon spiega che l'ordine è arrivato direttamente da Trump per scongiurare altri eventuali attacchi da parte dell'Iran. Il ministro degli esteri iraniano parla di un atto terroristico internazionale. La guida a Suprema Khamenei promette una minaccia, una vendetta durissima e ha chiesto tre giorni di lutto per il paese. Facciamo il punto su quello che è successo. Un raid in piena notte, un attacco nella zona dell'aeroporto di Baghdad che rischia di scatenare reazioni a catena. C'è anche Qassem Soleimani, potente generale iraniano, capo delle milizie di Al-Quds dei Guardiani della Rivoluzione, tra le vittime dell'attacco ordinato direttamente dal presidente Trump poco dopo mezzanotte. Una sorta di risposta all'assalto all'ambasciata statunitense in Iraq avvenuto due giorni fa. Due missili hanno preso di mira e poi distrutto due convogli delle forze di mobilitazione popolare irachene che stavano accompagnando all'aeroporto una delegazione dei Guardiani della Rivoluzione di Teheran, sui quali viaggiava Soleimani ma anche il leader delle PMU Abu Mahdi Al-Muandis, l'uomo che il 30 dicembre ha spronato la folla ad assaltare l'ambasciata americana. Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermerà né una dura vendetta, attende i criminali le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell'attacco della notte scorsa. Il commento della guida suprema iraniana Ali Khamenei, critica Trump, arrivano anche dal candidato alla Casa Bianca Joe Biden. Il presidente ha gettato dinamite in una polveriera. Le sue parole su Twitter, il segretario di Stato Mike Pompeo pubblica un breve video in cui si vedono persone in strada festeggiare e sventolare la bandiera irachena. La gente balla per la libertà grata che non ci sia più il generale su Elemania, ha scritto Pompeo. E andiamo adesso in Italia con la politica perché è davvero alta la tensione nel Movimento 5 Stelle dopo l'espulsione da parte dei propri viri di Gianluigi Paragone per aver votato contro la manovra di bilancio. Dalla sua parte si è schierato di Battista creando inevitabilmente ulteriori fratture all'interno del Movimento. Paragone è sul piede di guerra, minaccia anche di rivolgersi alla magistratura ordinari. In un colloquio con il Corriere della Sera ha dichiarato io non mi muovo dal mio scranno di Palazzo Madama, mi dovranno buttare fuori con la forza. Una situazione appunto che dicevamo crea divisione all'interno del Movimento 5 Stelle dove ci sono opinioni diverse rispetto a quello che è successo. Per quanto riguarda Luigi Di Maio, sottolinea che il Movimento è una pluralità, non è un'anarchia e non è finita con le epurazioni. Adesso toccherà a chi non restituisce le quote. Facciamo il punto. Inizio danno problematico per il Movimento 5 Stelle alle prese con i contraccolpi dell'espulsione del senatore Pierluigi Paragone con altri malumori interni. Il senatore ex giornalista è stato formalmente stromesso a causa del suo voto contrario alla legge di bilancio. Ma a fianco del parlamentare si schiera Alessandro Di Battista che avverte Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali non c'è mai stato una volta che non fossi d'accordo con lui. Un sostegno pesante ma che evidentemente non basta al diretto interessato che annuncia sono stato espulso dal nulla sono pronto a dare battaglia farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria per far capire l'arbitrarietà delle regole alla fine chi mi ha cacciato mi dovrà chiedere scusa. Contro di lui nel Movimento si alza qualche voce un conto sono le critiche altro conto è il sabotaggio scrive su Facebook Carlo Sibilia ma molti altri solidarizzano dall'ex ministro Barbara Lezzi Paragone resta un mio collega non è una buona idea espellere gli anticorpi al dubbioso senatore Nicola Morra presidente dell'antimafia che parla di scelte politiche del Movimento non sempre lucide e felici ma puntualizza se ci definisci il nulla perché sei rimasto con noi fino all'espulsione? Tutte critiche verso la scelta dei propri viri dei 5 Stelle e le reazioni delle altre forze politiche Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia dice chi ha un briciolo di dignità adesso si sente a disagio la pensa allo stesso modo anche Stefano Fassina di Leu il dissenso non si affronta con i propri viri così anche Gelmini di Forza Italia non condivido nulla con Paragone ma precisa Gelmini il senatore paga per la sua coerenza mentre dalla Lega che fu la prima casa politica di Paragone si fa sapere per lui porte aperte tace invece l'alleato del Movimento il PD il caso comunque è tutt'altro che chiuso e si somma all'abbandono di Fioramonti ora non manca chi ipotizza una futura più vasta scissione interna ai pentastrellati forse subito dopo il voto del 26 gennaio in Calabria e in Emilia e di fronte all'apertura da parte della Lega Paragone ha subito chiarito che non ha nessuna intenzione di riavvecinarsi a Salvini troppo distanti ormai le idee tra Paragone appunto e la Lega Salvini che oggi presenterà la sua memoria difensiva alla Giunta per le autorizzazioni a procedere che il 20 di gennaio dovrà votare sulla vicenda del caso Gregoretti una memoria che dovrebbe contenere almeno a quanto annunciato dallo stesso Salvini le prove che quella decisione fu condivisa con i ministri e che lo stesso contene era perfettamente al corrente punto primo nessun atto è stato compiuto da Matteo Salvini in quei 5 drammatici giorni di luglio per trarre vantaggio o lucrare politicamente dalla vicenda dei 131 immigrati a bordo del pattugliatore della Guardia Costiera Gregoretta tutte le decisioni sono state adottate nella sua qualità e nei suoi poteri di ministro dell'interno punto secondo delle sue determinazioni in tal caso sono sempre stati tenuti al corrente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri competenti a conferma ed è il terzo punto ci sarebbe il fatto che pur essendo di dominio pubblico lo stallo della nave a largo di Catania e poi di Augusta non è giunto alcun ordine in direzione opposta da parte di Palazzo Chigi infine ci sarebbe il precedente del caso di Ciotti che ha portato alla respinta della richiesta di processo per una vicenda analoga sono i quattro pilastri difensivi sui quali si basa la memoria difensiva predisposta anche in questo caso dall'avvocato e senatrice ed ex ministra leghista Giulia Buongiorno che sarà depositata questa mattina alla giunta per le autorizzazioni a procedere del senato la vicenda è quella che si consuma tra il 26 e il 31 luglio in linea con la politica dei porti chiusi imposti dal capo di Milano tra gli atti la dichiarazione del ministro della giustizia Alfonso Bonafede alla 7 del 30 luglio c'è un dialogo tra i ministeri dell'infrastruttura dell'interno e della difesa a parole di Bonafede ringrazio il presidente Conte che continua a porre la questione nelle caccelerie d'Europa la richiesta avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona sarà discursa già a partire da mercoledì 8 due settimane prima del voto per le regionali in Emilia Romagna e Calabria in vista del voto finale del 20 gennaio da parte dell'organismo presieduto da Maurizio Gasparri decisiva potrebbe essere la posizione dei tre rappresentanti di Dalia Viva Francesco Bonifazi Giuseppe Cucca e Nadia Ginetti dando per scontato il voto contrario di Mayland Dunbarter dell'autonomia Palazzo Madama invece dovrebbe esprimersi con il voto definitivo tra il 10 e il 15 febbraio e parliamo adesso della questione della Libia perché ci sono degli interessi davvero molto ingenti nella decisione da parte del Parlamento di Ankara di inviare truppe a sostegno di Al-Sarraj una decisione che è stata sottolineata dallo stesso portavoce di Erdogan è stata presa per difendere gli interessi e i diritti della Turchia nel Mediterraneo ma allo stesso tempo il portavoce ha detto che Ankara è pronta comunque a collaborare per la stabilità della zona intanto l'Unione Europea sta lavorando per cercare una soluzione diplomatica alla questione il 7 di gennaio è in programma un summit mentre però la situazione rischia di precipitare da un momento all'altro perché continua l'assedio del generale Haftar vediamo il Parlamento ha autorizzato ieri l'invio di truppe in Libia a difesa del governo del Premier Serraj minacciato dall'uomo forte della Cirenaica il generale Haftar che da mesi stringe d'assedio Tripoli il presidente Erdogan ha voluto forzare i tempi per evitare che la capitale libica capitoli irritate Unione Europea e Stati Uniti ieri in una telefonata da Trump e Erdogan si è discusso di una possibile soluzione diplomatica ma intanto i combattimenti si avvicinano al centro della città con alcuni quartieri meridionali bombardati da mortai di Haftar nella stessa zona un drone turco sarebbe stato abbattuto Ankara vuole difendere Tripoli a tutti i costi e allargare la sua sfera di influenza nel Mediterraneo orientale fronteggiando l'asse a Arabia Saudita Emirati Egitto e Russia tutti schierati al fianco di Haftar in questa guerra per procura combattuta anche da mercenari delle opposte fazioni tra i primi a criticare il voto del Parlamento turco gli egiziani che si riservano il diritto di contrastare ogni minaccia alla propria sicurezza nazionale mentre Haftar si dichiara pronto a combattere i turchi che per il momento potrebbero limitarsi ad addestrare e rifornire le truppe di Serrage e dare sostegno e copertura aerea in gioco naturalmente ci sono enormi interessi il petrolio libico in primis ma anche i gasdotti del Mediterraneo e questa è una delle ragioni principali dei due accordi firmati lo scorso mese da Erdogan e Serrage con la Turchia interessata a diventare un corridoio energetico chiave per il ricco mercato del vecchio continente contrapponendosi all'intesa firmata ieri da Israele Cipro e Grecia e torniamo in Italia dove è stato arrestato il prefetto di Cosenza denunciata da un'imprenditrice intanto il Vimenale l'ha sospesa dal suo incarico facciamo il punto della situazione l'indagine ex prefetto sospesa sospesa ieri dall'incarico è accusata di aver indotto un'imprenditrice a dare o promettere utilità nei suoi confronti un reato che prevede una pena fino a 10 anni e 6 mesi la dottoressa Galeone avrebbe incassato attraverso una fattura fittizia i soldi messi a disposizione dei prefetti ma non spesi non una mazzetta dunque per favorire Cinzia Falcone l'imprenditrice che l'ha denunciata ma un trucco per intascare una rimanenza del fondo di rappresentanza accordata ai prefetti 1220 euro che era rimasta disponibile alla fine dell'anno secondo l'accusa infatti la stessa Galeone avrebbe chiesto all'imprenditrice Cinzia Falcone di mettere una fattura per quell'importo per poi dividere la somma 700 euro sarebbero andati al prefetto 500 l'imprenditrice subito dopo però Cinzia Falcone è andata in questura a raccontare la vicenda permettendo così agli investigatori di filmare l'incontro in un bar di Cosenza in cui la donna consegnava al prefetto così come concordato la busta con il denaro il prefetto è stato poi fermato e condotto in questura in borsa aveva ancora i soldi ricevuti dall'imprenditrice Paola Galeone inaspettativa dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'indagine a suo carico si trova adesso agli arresti domiciliari nella sua casa di Taranto il Viminale la sospesa dal servizio e il consiglio dei ministri nelle prossime ore nominerà il suo sostituto alla guida della prefettura di Cosenza ha risposto per circa un'ora alle domande del giudice Pietro Genovese il giovane che era la guida del SUV che ha investito e ucciso a Corso Francia le due giovani sedicenni Gaia e Camilla dato la sua versione dei fatti nei prossimi ore verranno sentiti anche i due amici che erano in macchina con lui ci sono ancora però molti elementi da chiarire in questa storia anche perché le testimonianze che sono diverse presentano varie discrepanze piangendo un'ora davanti al giudice delle indagini preliminari che lo ha ammesso agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo Pietro Genovese ripercorre la notte fra il 21 e il 22 dicembre l'incidente di Corso Francia ha investito e ucciso Gaia von Freiman e Camilla Romagnoli assicura al magistrato che è passato col verde e di essersene trovate davanti all'improvviso è un fatto nuovo deve interrompere spesso l'interrogatorio vicino a lui ci sono i suoi avvocati uno è il principe del foro Franco Coppi spiega che Genovese non è il killer descritto in certe ricostruzioni e annuncia che per il momento non ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari il ragazzo è distrutto da questa vicenda ha espresso tutto il suo dolore per quello che è accaduto e noi auspichiamo che il suo stato d'animo venga rispettato così come deve essere rispettato il dolore delle famiglie di queste ragazze Genovese che tornava quella sera dalla festa di un amico rientrato dall'Erasmus aveva un tasso alcolemico fuori norma e per il giudice andava a una velocità sostenuta più di 50 all'ora negli atti è scritto che una velocità prudenziale e una condizione di sobrietà gli avrebbero permesso di controllare meglio il suo SUV anche davanti a un ostacolo imprevedibile oggi probabilmente i magistrati sentiranno come testimoni i due amici che erano in macchina con lui la procura ha acquisito i filmati del semaforo depositati dall'avvocato di una delle ragazze dimostrerebbero che l'avviso pedonale fra il verde e il rosso è brevissimo i legali hanno anche nominato un perito di parte in vista degli accertamenti irripetibili sulla velocità del SUV di Genovese è un commerciante d'auto la vittima dell'aguato avvenuto nella notte a Foggia si tratta di un uomo di 53 anni con precedenti per reati contro il patrimonio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto uno scooter si sarebbe affiancato alla sua vettura mentre percorreva una via periferica della città e avrebbe fatto fuoco al momento gli inquirenti escludono che dietro questo assassino possa nascondersi la criminalità organizzata e ci spostiamo adesso in Australia dove sono iniziati nella notte le evacuazioni in alcune cittadine del sud-est del paese nel New South Wales zone colpite da giorni da vasti incendi che hanno provocato 20 morti centinaia di feriti e decine di dispersi mezzi navali e aerei sono al lavoro per mettere in sicurezza uomini e donne le cui case sono state distrutte dalle fiamme per domani è previsto un nuovo picco di calore con temperature oltre i 40 gradi per questo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e invitato tutti gli abitanti della zona a lasciare il prima possibile la regione e torniamo in Italia con lo sport e con le novità e gli aggiornamenti del calciomercato la Milano rossonera ha vissuto ieri una giornata inebriante la Ibramania sembra aver contagiato tutti al punto che la prima giornata milanese del figlio al prodigo ha lasciato una lunghissima striscia di incontenibile entusiasmo oggi lo svedese verrà presentato alla stampa e sosterrà il primo vero allenamento agli ordini di Stefano Pioli mentre il 21 suo nuovo numero di maglia è stato il figlio a sceglierlo la giornata frenetica di ieri iniziata con lo sbarco all'aeroporto di Milano è proseguita con le visite mediche qui ha fatto seguito la firma del contratto sei mesi più rinnovo automatico di altri dodici legato al raggiungimento del 50% delle presenze da uno svedese all'altro pur con una forbice anagrafica di quasi 20 anni la prima giornata di questo mercato invernale si è conclusa ieri sera con l'annuncio ufficiale da parte della Juventus dell'acquisto del millennial day Jan Kulusevski confermati 35 milioni più 9 di bonus che il club bianconero verserà nelle casse dell'Atalanta proprietaria del suo cartellino legandolo a sé con un contratto quinquennale tentativo non riuscito invece quello di poter disporre da subito del giocatore che rimarrà dunque al Parma sino a fine stagione bruciata sul filo del traguardo l'Inter che ora dopo aver perso Kulusevski cerca di correre ai ripari con l'usato sicuro che corrisponde al nome dell'ex Juventino Arturo Vidal facendo leva sul malcontento del giocatore che mai ha legato col tecnico del Barcellona Valverde al contrario di Antonio Conte che lo ha avuto in bianconero per due stagioni trattativa non facile ma che l'Inter spera di concludere positivamente tra gli affari minori conclusi ieri il Genoa dopo aver ufficializzato i ritorni in rosso-blu di Mattia Perin e Valon Berami si è assicurato anche l'attaccante Mattia Destro prelevato dal Bologna con la formula del prestito secco e prima di chiudere un aggiornamento su quanto accaduto nella notte in Iraq perché Israele ha elevato lo stato di allerta dopo aver preso dell'uccisione del generale Soleimani considerato nello stato ebraico come il principale artefice da molti anni della sistematica penetrazione militare dell'Iran in vari paesi della regione la radio militare dice che non è da escludersi una reazione degli hezbollah libanesi se giungessero alla conclusione che Israele ha avuto un ruolo nella sua eliminazione dunque è massima allerta è tutto per questa edizione del telegiornale che torna alle 13.30 adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni vi auguro una buona giornata grazie a tutti